ahah, ci passi no, di là, di là non ci passi è bello di qua eh, solo che dobbiamo capire di fare il giro e dopo di lì però arriva le ditte eh, però si può, dobbiamo capire dov'è il giro dobbiamo capire dov'è il giro però, di fare un cerchio è bello però eh, è bello però, hai sbagliato sicuro dobbiamo solo capire come fare il giro perché sennò ti perdi adesso qua, ci conviene tornare un po' più in su e capire, no, e magari andiamo un pezzettino poi torniamo in alto, però dopo dov'è assegnarlo perché sennò ti perdi eh, perché questo è grande perché dopo un pezzo più ci sono dentro due ditte com'è? porca loca! eh 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 calta, mica proprio, non è facile eh bravo, 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 quasi si è incascato il piede, infatti non c'è riuscire a toglierlo? guarda quello dove passa ma forza, castrota oh, mi sei incascato il piede via, 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 sì anche perché ero qua io in mezzo eh non mi era venuto male, l'hai fatto giusto bravo vedi che di qua c'è un passaggio ma sono passato su? ma sono passato su ieri eh adesso? ah va, va, va non viene un comaro, però mi sono incastrato non viene un comaro, però mi sono incastrato